Siamo qui con uno dei protagonisti di questa partita, Pedroca in campo fin dal primo minuto, veramente una prestazione perfetta la tua, presente su tutti i palloni. Sì, ci tenevamo insomma a fare, avevamo bisogno della prestazione oggi dopo due partite sotto tono comunque e vedendo anche che la casatese ci recuperava dei punti, insomma oggi non potevamo sbagliare, credo che non c'è stata partita, insomma in tutti i 90 minuti credo che abbiamo prevalso in qualsiasi zona del campo e quindi meritato il 4-1 e bene così. Qual è stata secondo te la caratteristica principale di questo crema veramente perfetto dal primo all'ultimo minuto? Ma credo la cattiveria, la concentrazione sin dal primo minuto appunto come dicevi, insomma partire soprattutto nel primo tempo con andare sopra di due gol e comunque ti dà carica, ti dà forza e poi ecco il gol preso a fine primo tempo poteva un po' tagliarci un po' le gambe ma comunque nel secondo tempo si è rientrati e credo che il carattere che ha contraddistinto questa squadra finora sia venuto fuori e credo comunque meritato, meritata prestazione, meritati tre punti oggi. Facile intuire a chi dedicherai questa vittoria? Sì, beh innanzitutto la dedico a mio papà, visto che la festa è il papà quindi la dedico a lui e poi alla mia bimba che è nata da poco e a tutta la mia famiglia, mia moglie e l'altra mia bambina comunque sono contento e è bene così, alla prossima. Complimenti e congratulazioni Pedro. Grazie mille.